E' stata consegnata ieri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Abruzzo per l'evento celebrativo dei 30 anni di attività scientifica dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso del INFN la lettera da parte dell'osservatore indipendente sull'acqua del Gran Sasso sul tema dell'interferenza con l'acquifero del Gran Sasso sia dei laboratori sotterranei di fisica nucleare sia delle gallerie autostradarie della 24 Nella lettera ovviamente è richiamato l'importanza di questo festeggiamento dei 30 anni dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'eccellenza che rappresenta ricordando però anche quello che in questi 30 anni i laboratori hanno significato rispetto a una sicurezza sicuramente è un polo di eccellenza scientifico nazionale e internazionale ma nella gestione poi fisica dei laboratori e anche del rapporto dei laboratori col territorio credo che le pecche siano state numerevoli da ultimo anche questo esperimento SOX che poi ieri è stato considerato semplicemente improbabile dinanzi a una fonte che i russi non garantiscono è un esempio anche questo allora a questo punto di come sono stati spesi 200 mila euro per fare solamente la prima prova e però come a volte succede può accadere che poi non si può andare avanti quindi ci auguriamo adesso a breve ieri è stata consegnata questa lettera di avere anche da parte del Presidente della Repubblica una risposta e quelle che sono state chieste cioè delle garanzie rispetto alla trasparenza di quello che accade e alla totale messa in sicurezza che è il nostro obiettivo non è quello di bloccare la scienza ovviamente se non ci dovessero essere delle risposte voi siete pronti a tornare a manifestare sì noi la manifestazione l'abbiamo fatta dopo sei mesi cioè non siamo partiti dalla manifestazione siamo partiti dal confronto dal dialogo dove nel dialogo e confronto era presente il laboratorio la regione il parco la ASL sarebbe utile che la politica tutta della provincia di Teramo a questo punto su questa questione sia in grado di fare squadra come invece insegnano al limite gli aquilani perché c'è una grande differenza su come le istituzioni dal parco Gran Sasso Monti e la Laga e non hanno su questo tema giocato un ruolo vogliamo tutti dal Quiotto e il Ruzzo alla ASL il bene della comunità della provincia di Teramo bene dimostriamolo A Teramo grazie al finanziamento da 35 milioni di euro provenienti dal Masterplan Abruzzo in tre anni almeno secondo le previsioni verrà riportata in vita un'importante parte della città oramai abbandonata a se stessa da oltre 30 anni questo grazie al progetto di recupero conservativo dell'Università di Teramo che trasformerà l'ex ospedale psichiatrico di Porta Melatina nella cittadella della cultura quindi non solo un mero insediamento universitario ma un insediamento universitario che vede però il coinvolgimento di tutte le anime culturali della città e oserei dire anche della regione quindi oltre ad ospitare nell'idea l'Istituto Braga e altre attività quindi un teatro sperimentale un auditorium ovviamente aperto sarà la sede principale della Facoltà di Scienze della Comunicazione però un momento in cui tutta la cultura della città e della regione si possano ritrovare ieri era presente anche il professor Capasso che è il direttore del museo dell'Università d'Annunzio di Chieti quindi potrebbe essere anche uno dei momenti di condivisione del sistema universitario abruzzese l'associazione Falcone Borsellino e l'Istituto Moretti di Roseto degli Abruzzi nell'ambito del premio Borsellino tutto l'anno hanno organizzato la rassegna L'indifferenza è complice 14 incontri dibattiti e testimonianze con 50 ospiti sui temi di attualità al primo appuntamento ha preso parte l'attore e giornalista Flavio Insinna che si è confrontato con i ragazzi della scuola sul tema della legalità 55 ospiti magistrati giornalisti attori artisti tutte le persone che riteniamo possono portare una testimonianza agli studenti abruzzesi quest'anno il tema è l'indifferente e complice un tema ripreso ovviamente da Gramsci perché è necessario oggi far capire i ragazzi devono essere protagonisti del cambiamento e protagonisti del mondo più bello che loro sicuramente vogliono questo è il nostro messaggio è quello che possiamo fare e quello che facciamo perché la scelta di Insinna perché è un uomo di grande passione è un uomo di grande impegno è testimonio di emergency della comunità di Sant'Egidio della Croce Rossa perché presta molte volte il proprio servizio gratuitamente per iniziative di volontariato sociale e civile perché è finanziatore e presidente di una squadra di ragazzi di basket in carrozzina per tanto impegno perché sul suo telefonino ha l'immagine di Paolo Borsellino perché ha una storia di impegno fortissima e siamo felici del fatto che lui abbia potuto accettare il nostro invito oggi qui a Roseto ma con l'impegno di farlo tornare entro il 23 maggio a Pescara no ma viene facile sono giovanissimi si affacciano alla vita voglio dire il minimo che uno possa fare è metterci tutta la passione del mondo ma viene naturale cioè non è che mi sono dovuto forzare ripeto li guardi con grande affetto con grande vorresti proteggerli saperli proteggere io poi insomma ormai ho l'età che potrebbero essere figli quindi la passione è naturale e se poi parliamo appunto in una giornata così importante di andare di contrastare di combattere l'indifferenza l'indifferenza la combatti con la passione col dedicarsi col dedicarti agli altri e spenderti il più possibile senza senza calcoli ai miei figli hai detto siate differenti ai miei figli sono di oggi qua beh sì che non vuol dire essere differenti per fare quelli che attirano l'attenzione e beh essere differenti è una grande sfida seguire la moda è più facile essere la moda neanche di moda alla moda a noi a scuola ci dicevano dice fatela la moda dice non la seguite e allora spostando il concetto è chiaro non stiamo parlando di vestiti non sono proprio in grado parliamo di modo di pensare nella vita e allora di non uniformarsi di farsi sempre delle domande di chiedersi da che parte stare perché poi bisogna bisogna scegliere e noi vogliamo stare dalla parte della legalità dalla parte di chi appunto si pone il problema per gli altri di chi non è indifferente e stare dalla parte di chi prova a fare la differenza la differenza facendola nel bene facendola nel bene è stato maggiore una misenina questa? eh non lo so lo devi chiedere a loro io spero di sì poi guarda è come quando sei sul palco a teatro no? se anche solo una persona va via dal tuo spettacolo non dico migliore pensando qualcosa in più di quando è arrivata un po' più felice di quando è arrivata tu hai già vinto se qualcuno magari tra qualche giorno qualche settimana dice oh però dice quella cosa che ha detto l'ho ritrovato oppure ho aperto quel libro e secondo me allora hai vinto però ti posso dire uno deve continuare a farlo anche se non dovesse riuscire stavolta non succede la seconda la terza appunto come le onde del mare tornano sempre anche se vengono poi diciamo idealmente respinte si ritirano e ripartono sarebbe troppo facile avere tutto e subito non è la vita non è così lo sappiamo il successo è un participo passato è rischiosissimo no? ma io soprattutto li voglio cercare di proteggere appunto dai falsi miti perché capisco che uno dice ah vorrei essere quel cantante vorrei essere quel divo ah quello tutti i milioni di visualizzazioni che è una cosa bella se succede ma se non succede non vuol dire che la vita non possa essere altrettanto piena di significati e di senso io come dire ho cercato per un attimo di porre loro questo dubbio che il fine ultimo della vita non è il successo ma appunto è far succedere o vedere cosa succede fino all'ultimo istante della nostra esistenza e non essere se per un attimo volessimo entrare e sconfinare in campo calcistico non essere sempre per forza schiavi del risultato perdere non vuol dire perdere in maniera definitiva c'era un grande mi ha sempre fatto ridere c'era una frase di un grandissimo inventore che ha detto dice io non ho mai fallito ci ho fatto migliaia di tentativi che non hanno funzionato che è diverso dice io provo a fare sto microfono dice non funziona subito provo un altro lo riprovo non sono sconfitte sono appunto tentativi sono tappe di un viaggio io spero che loro ecco se andassero via un pizzico più coraggiosi di come sono arrivati io sarei l'uomo più felice del mondo a teramo la bocciatura da parte del commissario della proposta messa in campo della tercop con l'attivazione dei parchimetri rischia di mandare a casa circa una ventina dei 26 soci lavoratori della cooperativa sociale questo anche in caso di riaggiudicazione del servizio gestito finora una situazione che ha portato l'ex consigliere al comune Paola Cardelli a scrivere una lettera motivando il suo forte disappunto per la decisione presa dal commissario il commissario sempre ha intenzionato appunto a mettere a gara esclusivamente il servizio del parcheggio senza custodia e ciò comporterebbe la perdita di lavoro sicura per almeno 20 dei lavoratori tercopi che ricordo sono appunto socialmente svantaggiati e difficilmente ricollocabili altrove una buona notizia diciamo che ieri comunque sono stata contattata dal subcommissario che ringrazio anche per l'estrema gentilezza con cui si è comportato con cui si è reso disponibile e ho potuto presentare le mie argomentazioni mi auguro che ci sia ancora uno spinario di manovra da parte del commissario che la decisione non sia assolutamente irrevocabile purtroppo è avvenuto quello che avevo paventato cioè le dimissioni ultradimidium dei consiglieri hanno provocato prima che si mettesse in sicurezza il progetto TECOP hanno reso molto più difficoltosa questa operazione e vi rivolgo parlo naturalmente del consigliere d'opposizione e adesso diventano anche più evidenti i motivi per cui alcuni hanno avuto tanta fretta ad esempio il consigliere Berardini che si è candidato alle primarie per il Parlamento Griglino non avrebbe potuto farlo da consigliere comunale perché vige il regolament vige il divieto di dimettersi per concorrere alle primarie io mi auguro che comunque appunto il commissario che più volte anche durante l'incontro con gli XKP Gruppo Consigliare aveva esaltato diciamo l'ampiezza dei suoi poteri ma anche da un punto di vista politico io mi auguro che comunque il commissario faccia uno sforzo se possibile per venire incontro alle esigenze di questi lavoratori sempre nella legalità e nella legittimità chiaramente e mi auguro anche in caso contrario spieghi i motivi per cui non si possa dare seguito a questo progetto a Teramo nonostante le diverse segnalazioni fatte dai residenti e le autorità il comitato di quartieri di Santa Maria e Bitetto torna a denunciare la precaria stabilità dell'edificio tra Largoparis Vico del Cigno e Via Muzzi che nonostante la certificazione fatta nel mese di novembre da parte dei tecnici dei Vigili del Fuoco che confermarono la pericolosità della struttura ad oggi continua a vivere una totale situazione di stallo dal punto di vista della messa in sicurezza per questo motivo il comitato ha inviato una nuova istanza al commissario Luigi Pizzi per chiedere un intervento immediato vive una situazione di stallo in realtà c'è stata un'ordinanza emessa dal sindaco Maurizio Bruchi il 30 novembre che però ha soltanto si è limitato unicamente a chiudere due vie fondamentali per il centro storico Via Muzzi e Vico Del Cigno in realtà è stata presa soltanto una decisione diciamo generale e pubblica noi io e il collega Giuseppe Gliatta del Foro di Bologna abbiamo presentato una nuova istanza rivolta al commissario straordinario del comune di Teramo affinché provveda a fare dei sopralluoghi e delle verifiche strutturali nonché a provvedere anche ad una bonifica del sito relativo all'immobile di Via Muzzi perché come sappiamo la situazione è rimasta invariata i muri praticamente sono quasi pericolo crollo mancano i solai e una parte del tetto oltre a esserci un giardino che è di pertinenza di questo immobile che è un ricettacolo di rifiuti e un proliferare di topi ed altri animali che purtroppo circolano liberamente per il centro storico noi chiediamo tempi certi e soprattutto tempi molto veloci perché c'è anche un danno alla circolazione da parte dei residenti che sono limitati nei loro spostamenti proprio a causa della chiusura di Via Muzzi a Pineto i balneatori sono tornati a denunciare il preoccupante ed incessante lavoro di erosione della spiaggia questo nonostante gli ultimi mesi non si siano registrate e maleggiati rilevanti l'acqua del mare è arrivata a ridosso di alcuni lidi un problema che riguarda in particolar modo la zona nord del torrente Calvano su cui da anni operatori turistici ma anche residenti hanno presentato diverse richieste a comune regione per la creazione di pennelli e scogliere per limitare il fenomeno è sempre stato un problema qui a Pineto soprattutto per quanto riguarda la zona nord come già detto ci sono stati precedentemente negli anni passati degli interventi di ripascimento che non hanno portato comunque benefici o meglio hanno portato benefici momentanei è stato un grosso intervento di ripascimento però non ha portato nulla in quanto quel ripascimento nel giro di un anno un anno e mezzo è scomparso ovviamente abbiamo contatti con tutta la categoria abbiamo contatti con l'amministrazione ma noi ripeto chiediamo un progetto che sia qualificante e possa risolvere definitivamente imprimisi il problema che ha la zona nord Villa Ardente per la fattispecie e poi possa salvaguardare per il futuro tutta la spiaggia di Pineto che è bellissima e che comunque si chiede sì interventi ma non che siano troppo invasivi nel senso che noi comunque viviamo in un'area parco e questo va tenuto da conto Proseguono spediti secondo il cronoprogramma previsto i lavori sul lungomare nord di Rossetto degli Abruzzi dove entro l'estate sarà completata la pista ciclopedonale un progetto importante che porterà finalmente al collegamento di tutto il comune costiero con Pineto a sud e Giuliano Vannord lavori che permetteranno anche di riqualificare le zone periferiche della cittadina costiera Stiamo finendo questa parte nord del lungomare per poi trasferirci in quella sud e terminare i lavori dentro la riserva del Borsacchio dopodiché il collegamento con Cologna Spiaggio ci sarà e quindi si potrà proseguire per Giulianova Le tempistiche? Ma noi contiamo per l'inizio della stagione di ultimare i lavori sperando che non ci siano intoppi però sta procedendo tutto nel verso giusto per cui crediamo quanto prima di ultimare i lavori abbiamo apportato ecco delle migliorie al progetto soprattutto in questo tratto per ricollegarlo alla parte già esistente del lungomare Celomi il tratto centrale quindi verrà sicuramente un buon lavoro e quindi crediamo che la nostra città la prossima stagione estiva si presenterà sicuramente meglio rispetto agli altri anni sarà più bella sarà più accogliente sicuramente più confortevole e gradevole da guardare per i turisti che verranno nella nostra città noi arriveremo fino alla rampa del ponte ciclopedonale sul Vomano adesso la provincia sta controllando che i lavori vadano sicuramente con un ritmo più intenso perché ci sono stati alcuni intoppi speriamo per l'estate di collegarci anche con il comune di Pineto e quindi allacciarci con Scerne sarebbe veramente un'ottima cosa perché comincia a prendere forma la ciclovia adriatica ci si può spostare tranquillamente da Martinsicuro fino a Silvi sono iniziati questa mattina i lavori al Pascal di Teramo dove la provincia ha dato il via alla sistemazione di un ale della scala centrale le due strutture ricordiamo erano state classificate come B e quindi chiuse dopo il terremoto del 24 agosto del 30 ottobre 2016 i lavori che ci tengo a precisare non rientrano nel finanziamento di 5 milioni e 4 per l'adeguamento dell'intera scuola sono lavori che permetteranno di riavere sei aule il blocco centrale con l'area bar e due laboratori spazi che per il Pascal sono vitali in quanto permettono di alleggerire la situazione forti dove oggi sono collocati i ragazzi del Pascal sono lavori che la provincia si assume la responsabilità di realizzare pur nella presenza di un finanziamento che finanzia un'opera complessiva sull'intera scuola ma che permetterà una vivibilità maggiore dell'istituto tempistiche per terminare questi lavori tra i 30 e i 40 giorni non di più cercheremo di fare uno sforzo per una riconsegna anticipata quantomeno dell'area centrale con la zona bar e della scala di accesso per le altre scuole in questi giorni sono in corso di pianificazione interventi derivanti dal secondo piano stralcio dell'edilizia scolastica approvato qualche giorno fa dal comitato istituzionale a Pieve Torrina con il commissario De Micheli ci sono finanziamenti sul comi secondario sulla sede attuale del liceo sportivo e della cruce rossa finanziamenti sul liceo artistico e finanziamenti in essere che stanno maturando anche in altri filoni di finanziamento attenenti però al ministero della pubblica istruzione possiamo dire che ci vorranno ancora anni per completare tutti i lavori mi sento di dire che quello che stiamo facendo oggi è un lavoro di programmazione che permetterà di realizzare un'opera di ricognizione rimessa a norma un po' di tutte le strutture ma sicuramente un lavoro che non troverà compimento nell'arco di 12 mesi questo è sicuro A Teramo l'associazione dei consumatori Robin Hood continua la propria battaglia di informazione e legalità rispetto alle questioni legate al cratere sismico questa volta ad essere stata posta sotto la lente di ingrandimento dell'associazione e la graduatoria del contributo una tantum di 5.000 euro riservato a professionisti commercianti e artigiani che con un'autocertificazione hanno dichiarato di aver avuto una perdita di lavoro e di non aver potuto esercitare a causa del terremoto spiegiamo un dato che cos'è il contributo una tantum era un contributo di 5.000 euro dato ai soggetti che avevano dovuto sospendere l'attività a causa del terremoto come si otteneva? Si otteneva facendo un'autocertificazione dichiarando questa circostanza cioè io in prate professionista commerciante artigiano non ho lavorato a causa del terremoto e quindi diciamo accedeva a questo contributo ora pare che la cosa non sia così pare che molti che avevano diciamo diritto non hanno saputo di questa possibilità molti che hanno saputo questa possibilità hanno certificato cosa non vera ora che cosa è successo anche in altre regioni in altre regioni è la regione stessa che si è attivata per esempio abbiamo il caso delle Marche molto esplici abbiamo questo assessore donna molto impegnato su questa cosa si sono attivati facendo il controllo a tappeto quindi oggi noi chiediamo alla regione Abruzzo di attivarsi così come hanno fatto le altre regioni in modo particolare le Marche che ha fatto anche un accordo con l'Inps per verificare le singole posizioni e evitare di fare il controllo a campione sul 5% ma fare un controllo massimo questa è un'esigenza di legalità innanzitutto per dare giustizia a coloro che non hanno fatto domanda e soprattutto per evitare che i soliti furbetti approfittino anche di questa circostanza questa stagione invernale per i prati di Tivo di certo non è iniziata sotto una buona stella visto che ad oggi sono stati pochissimi giorni di apertura della struttura questo a causa del vento prima che ha denneggiato gli impianti di risalita e la mancanza di neve ora che ovviamente non ha permesso la riapertura su questa situazione la provincia di Teramo il comune di Pietra Camela si sono impegnati a reperire risorsi dai propri bilanci per la sistemazione degli impianti e le falde nord orientali del massiccio del Gran Sasso d'Italia e per affittare sette cannoni per l'innevamento non sono nati sotto una buona stella intanto perché non c'è stata neve e invece ci sono state diciamo fortissimi momenti di vento che hanno arregato ulteriori danni agli impianti e continua ad esserci poca neve e adesso stiamo cercando di risolvere affittando dei cannoni sparaneve da parte di una società che come è noto non ha una grossa liquidità per cui la provincia di Teramo sta intervenendo anche da un punto di vista di supporto finanziario e qualcosa sta facendo anche il comune di Pietra Camela per garantire almeno la prossima settimana in assenza di neve che si possa utilizzare la parte bassa per i ragazzi con cannoni sparaneve che stiamo in questi giorni prendendo abbiamo chiesto una verifica dei danni alla società la provincia sta mettendo a disposizione trattandosi di impianti che sono anche suoi delle somme per la manutenzione straordinaria di questi impianti e anche quello che in questo momento non è ancora pronto e cioè il pilone sarà sistemato a tempo breve per la manutenzione Grazie a tutti.